Cos'è? Cos'è? No signora, signora le chiamo un esorcista Cos'è? Nooo Hai voluto provare il livello? A dire il livello no! Cos'è? Ti diverti, ti diverti, è un bellissimo livello No 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 Mettetelo puttelo qua Stai buono, ah io sono il blu Tu sei il rosso, non è difficile Sì sono Perché ho cliccato? Sono un imbecille Dai devo ancora farla intro Guarda che ti butto fuori eh Ah no sono io player 2, aspetta parco cane, è vero No fermo, non toccare, non tocchi Mi fa farla intro Ok, quella che è carina Quella nella clessidra è chiaramente cocaina Per questo c'è tutta la faccia contenta Ciao no no no, dammi il caffè Allora, salve a tutti Sono DeLongamer e benvenuti finalmente Su Cuphead, come avrete capito Dalla intro La nostra assistente è un attimino Drogato di caffè È una tazzina che ama proprio il caffè Quello bello amaro forte No è già sotto caffè A quanto pare Allora abbiamo letteralmente Scusa Abbiamo letteralmente appena acceso il gioco Non sappiamo nulla di nulla E... saranno cazzi Ho fatto il tutorial Ricordo questo Superman Ok, io so questo So che abbiamo questo E questo Questo si blocca il posizione Ok, andiamo Andrà tutto bene Quindi, perché siamo qui? Allora, a quanto pare Il nostro assistente ieri Ha capito male Io gli ho detto che volevo andare in un casino A farmi delle donne Lui ha capito casinò E praticamente Siamo andati a scommettere denaro Mio ovviamente Ci ho rubato dall'assistente Ma vabbè E abbiamo perso tutto E adesso Satana vuole le nostre anime Ma noi siamo stati furbi E gli abbiamo detto Ti troviamo le anime degli altri E non è stata una grande idea Per quello abbiamo il sorriso dei deficienti Eh no Quello è... Il nonno al posto dello zucchero Usa la cocaina Lascia stare C'è un signore qua Cosa vuole? Parla in lingue straniere Parla in lingue straniere Bla 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 Ok Che paura di spavento Ci ha dato delle monetine, hai visto? Siamo ricchi L'ho detto? Fagli un pompone è servito Che lo sapore stanno in bocca Possiamo andare subito allo shop A comprare cose Tanto che ci siamo C'è neanche comitato il gioco Già subito il consumismo Cioccoli Chi è quello? È un porco Quel signore è un porco Ah Io prendo un cuore in più Che sicuramente ci faranno malo malo Ma per adesso prendo Dopo prendo questa qua Sì 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 andiamo di cuore intanto Ok Oh cos'è? Ah Zucchero Lo zucchero che ci dà praticamente la parata automatica Ah Ok non ci ho capito una acciola niente Io sono a posto Mi fai paura Eh Aspetta di vederlo nel sonno Quando sei lì che dormi sotto le tue coperte Oh possiamo scegliere cosa abilitare? Non abbiamo niente Abbiamo le robe di badge Siamo tristi e poveri Ah ah Dobbiamo abilitare l'altro cuore Dobbiamo abilitare l'altro cuore Ecco qua Abilitato Siamo a posto Io la faccio da psicopatico Sei psicopatico Andiamo avanti Allora Dobbiamo affrontare i boss alla dark soul C'è un signore qua sotto Benvenuti in dark soul Andiamo avanti che è meglio Siamo al giardino botanico La facciamo difficoltà regolare perché siamo di professionisti Non è vero Moriremo malissimo Vuoi giocare a questi giochi? No sono negato Cos'è? Che carina A me piace la patata Ma cos'è? Vai via No No Mi lancia gli schifi Aia Porca boia Mi lancia gli schifi No no abbiamo cominciato già malissimo Aiuto Aiuto Cos'è un verme? Ho paura Ho genuinamente paura Aspetta Ok Non so ho preso un verme Non l'ho gradito Ho preso malattie strane Cos'è? Ho preso la patata Oh abbiamo vinto Finito? Cos'è? No Aia Cipolla Non mi tocchi la cipolla Non mi tocchi la cipolla che è meglio Aspetta Porco cane Aia Non volevo Mi dispiace davvero Si ho preso tantissimo Petti Petti Oh No Non dirmi che sei morto Non posso raggiungerti Apparentemente potrei essere morto Abbiamo cominciato veramente bene Abbiamo cominciato veramente bene Ok L'orto è un trauma per entrambi Cioè io sono vegetariano Mi aspettavo un vantaggio Ma direi di no E poi vuol dire A me piace la patata Sono pro patata Ok ce la possiamo fare Cerchiamo di tenere il potere Au Au Mi sono fatto prendere dal panico Buono no Ah Stiamo vicini No Aspetta Stiamo vicini Di qua Stiamo di qua Che se moriamo almeno ci possiamo salvare in qualche modo Ok Però mi fa venire sensi di colpa No no non piangere Ah goccia goccia Aspetta Basta guardare dall'alto in teoria Per vedere dove cadrà Più o meno Più o meno Si ma se sparo dall'altra parte non funziona Au Stavo guardando la signorina che piangeva Ah ah Ok Cosa fa? Assistente mi fa venire il pane Cos'è? La carota Le carote fanno bene alla salute Cos'è? Questa no Questa lancia i missili Cos'è? Questa lancia i missili Ok ok Cos'è? Cos'è? Ma no Oh Sei scemi Aspetta aspetta gli sparo da qua Sparagli al terzo occhio Morco cane Ok 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 Che facciamo? Aspetta che arrivano i missili di carota dappertutto Ma che ho fatto così? Così non è male Abbiamo trovato un buon punto No 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 Aspetta aspetta Ovviamente spara a te A te? No a me no a me no a me no Sono vegetariano Volemo stare bene Ok Ok Aspetta 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 Ah madonna non vedevo i missili Carota Aspetta Aspetta Panico 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 carota Aspetta Aspetta Potere fai go No aspetta aspetta Ok Ah ce l'ho io Aspetta Ok 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 C'è voi l'onda energetica Ma mi ha paura Oh mio dio No io sto gioco già l'odio Le verdure fanno male Io l'ho sempre detto Questo è vero Però le carote fanno bene alla vista Eh ho visto Ho visto Ok Ho visto Gli è spuntato un tazzo occhio C'hanno dato un c più No c tua no c più c tua Un minuto e mezzo Mi sembra che siamo qua da una vita C'ho già i traumi No fammi di far coca Allora vediamo che succede Ho una bandierina E ci hanno aperto un nuovo percorso Oddio che paura No c'è buono Ah ci hanno dato cose Non meglio definite Non prenda traghetti in giro C'è un traghetto No 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 C'è un pesce C'è un pesce laggiù Ciao pesciolino E qua tutta saltata per niente Mi ha sbloccato un punto per andare a nessuna parte Penso per andare qua Vuoi prendere il traghetto? Andiamo tutti al mare Oh no cos'è Proviamo e basta eh Se sono cose brutte torniamo indietro Cos'è? Cos'è? Vibra il contro... Mi hai bloccato il controller Ti vibra il controller? Si me l'hai... È successo anche a me prima Aspetta 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 Mi stai staccando il controllo Vibra ancora? Si Non so cosa fare C'è abbiamo staccato il controller E vibrava ancora Ok Satana è uscito Satana è uscito A posto? Oddio che... Ok E' stato... E tu volevi farmi andare avanti? Eh vabbè Per un attimino giù Eh si sono l'unico che sa giocare praticamente Vibra tutto Non è che sei l'unico È che io sono impedito a schifo Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ok Aspetta 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 Torco cane Da ciolla Aia Non ho capito una ciolla di niente Spara agli insetti Spara agli insetti Spara agli insetti Ok ok Quello lo posso fare? Bravissimo Aspetta Aspetta Visto come lo stai facendo Buono buono vedi non è male Non è male Boh dai non abbiamo fatto così schifissimo Attento ai punti Ma perché? Ma perché c'hanno da avere le rane strane? Salta Giù 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 Resta giù Ok ok no salta Perfetto Bravissimo Dai stiamo andando così male Aspetta gli spara anche un po' di onde energetiche Ucciditela adesso Petta 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 Uccidi le cose infiammate Ma cos'è? Ma sono insetti? Sono lucciole Attento 3 2 1 Salta e swippa Cos'è? Bravissimo Cos'era? Ah ok non dobbiamo parpeggiare le rane Oh mio dio Ci attaccano da due parti No cos'è? Attento ti fa tipo le cose Sì Merda Merda Ti risucchia Mi fa un risucchio tutto Rana Senti non è più estate per il ventitore Ha rotto la ciolla Che fa? Che fa? 3 2 1 Ho swippato Ok ho swippato Bravissimo Cos'è? Non lo so io li sparo Non sapete Abbiamo vinto Mi ha colpito con la monettina Ok no ok Ok mi riporto in vita Molto gentile Colpito questo Ok bravo Bravo Ok continua a sparargli Una rana? Cos'è? Ah 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 Aia Salvami No Cos'era? Aspetta sono vinto io Aspetta Aspetta Ah salvi tu Ok continua a sparargli Continua a sparargli Continua a sparargli Attento la monettina Ah ti salvo Ti salvo Attento la monettina Salvami Salvami Arrivo Non ce la faccio Addio Adio Mi piacere conoscerti C'hai il toro Non cosarli Stai basso Stai basso Stai alto Stai alto No Basso Nooo Dove eravamo arrivati? Nooo Quasi la fine Io non ho capito una ciolla di niente Dai 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 ci siamo Dai ci siamo Ci siamo Io non so come ho fatto la metà delle cose che ho fatto Ascoltami e ce la farai Eh te che piacciono le rana a me fa un schifo Mi sono carina Mi ho avuto i treni nella mia vita Uccidi gli insetti Aspetta petti 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 Ecco fatto 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 Buono Continua Ma perché dobbiamo avere i gemelli fastidio Aspetta Giù Stai sempre giù Tranne Ok Ma to Stai sempre giù Tranne quando arriverà Ok 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 ho capito Non ho capito una ciolla di niente Stanno per saltare Aspetta Ah ho fatto Sono saltato dalla parte sbagliata Io gli sparo i codi Ma lo stai modaneggiando Non lo so Mi ha tirato la mia vita Ti non imporchi vai 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 bravo bravo Stai attento Abbiamo tutti due un HP E devi stare molto attenti No no Mi sorprende no Aspetta Ok 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 Aia Salvami salvami almeno tu Aspetta aspetta Au salvami salvami Ok Merda Non ci possiamo fare Ehm Ok ok Salta di due a questo punto Salto di due Salti di due E dovremmo No Siamo stati bravi Sì sì Ok siamo andati meglio Però il panico Saltano non avrà il mio E la mia anima Il mio culo No il culo Non dovevamo dargli il culo Ma gli hai dato il culo No non gli ho dato il culo Perfetto bravo Ok fidati Però c'è un'irritazione brutte 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 C'hai fatta? Sì Perfetto No sono morto sono morto sono morto Ti prego Cos'è la tigre? Cos'è? 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 Cos'era? Ma preferivo gli altri Devi saltare in mezzo ma evitare la pallina Sì vabbè c'è anche una fetta di culo magari Preferivo serpente No il serpente mi fa schifo Preferivo quello con le fiamme Non lo so preferivo non giocare a sto gioco e tanti saluti Ah 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 Aia di attacchi faighi Non farlo quando ci sono quelle cose che volano Ok 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 C'ho perso la vita per quel giochino C'ho perso la voglia di vivere Aspetta Aia Facca Ma ogni tanto me li fa vicini Ogni tanto me li fa lontani Lo stronzo E non è che ti vuole aiutare io sto parlando Ma no ma come? E ci arrivo sempre con una HP Davvero? Storia della mia vita Cioè non dare come i signori ci ignorano Aia Aia molto male Molto male ok Ok Ti ho salvato a culo Ma non so cos'è Oddio Le fiamme Aspetta allora basso 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 Alto Basso, alto Alto, porco, cane Sto venendo a salvare te Mi ricordi perché abbiamo come detto Ah giochiamo a Cappel, sicuramente è una buonissima idea Perché te l'hanno chiesto Se gioco a Dark Souls usando il controller con i piedi Facciamo meno schifo Allora, propongo una cosa molto semplice Andiamo a prendere un paio di monetine in giro Perché siamo messi malissimo C'ho i big traumi, dovrebbe esserci Una mission ciina veloce veloce Cinque monetine, magari possiamo acquistare Qualche super potere che non cambierà un cazzo di nulla Perché faccio schifo a mille Anche se mi danno 70 cuori in più Run and gun, cos'è? Cos'è? Porca boia, non so cosa Ci sono i fiori che ci attaccano La natura mi odia Anche a me, anche a me Sono vegetariano, vogliamo fare bene Attaccata dietro Penta, penda Ok, altri 4 Madonna Cos'è che mi ha sparato? Mi ha dato una scoreggia Ok, ok Penta, penta, penta Buono Piano, piano, piano L'attacco da sotto No, no, penta, penta, penta Ok Troppa gente Troppa gente Troppa gente però Ho avuto tanta paura Anch'io I fiori sono persone orribili Cos'è? Cos'è? Vai via Mi fai schifo Quello non si uccide Quello non si uccide Penta, 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 penta Morici, buono Oh, tento Ah, ah Troppa gente No, troppa gente Sta accadendo di tutto Sta accadendo le tronette Cosa è una monetina? Abbiamo un HP Cosa potrebbe mai andare storto? Non lo so Io passo avanti Aspetta, aspetta Panico Ansia Ok, aspetta Ah, signore blu mi insegue Ok Funga e merda Au Cominciato benissimo noi C'è proprio un capolavoro Ok, siamo tornati appunto di prima Per chi se lo domandasse Adesso sono io col bug del controller Che vibra in continuo Comodissimo Cos'è? Cos'è? Cos'era? Non lo so cos'era Ma mi ha spaventato tantissimo Beh, quella come la prendiamo? Ah, vado di dash È stata una pessimissima idea No Ok, lasciamola lì Lascia L'hai presa? Sì Ah, beh, beh, beh C'è il fiore del demonio qua Che avrà un perlaccio Oh, là Ok, piano, piano, piano C'è un ciccio dall'altra parte Occhio da sopra E anche da qui Aspetta Dov'è il signore? Dov'è il signore? Adesso salto il rischio Ok Se la fai? Ah, ok Ah, ok Beh, beh, beh Troppe cose Con calma, con calma Vai, vi ore tu Ok, andiamo sopra Andiamo sopra Merda Ok, piano Con calma Mi sta accadendo di tutto A schermo sta accadendo letteralmente di tutto Ok Ok, tanto sappiamo che dovremmo rifarla Cos'è? Oh, oh, aspetta, aspetta Sono morto malo, sono morto malo Anch'io Siamo morto malo Ok, si torna lì Dai, eravamo così alla fine Ce la possiamo fare Sono uno youtuber professionista Ce la possiamo Finirà male Arrivo, arrivo, arrivo Ah, ho preso un coso per aria Ho preso un coso per aria Dai, che siamo arrivati con un po' più di vita Non possiamo fare troppo schifere Ma perché? Perché mi odia quella margine? Piano, 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 con calma Con calma Beh, questo non lo possiamo far fuori Non lo so, era preso da Super Mario Da un incubo Ok, uno alla volta Piano, con calma Aspettami Piano, con calma Non vado da nessuna parte, giuro Ok, salta Ok Aspetta, eh, petta sta ciolla Che c'è il signore Ah, ah, lo sto schivando tanto Eh, quando vuole arrivare Perfetto Vai Ok, monetina Ah! No, quanto dove era? Non l'ho visto No! Ok Sono vivo, sono vivo Venga di qua Ah, il fungo Aspetta, è un funghetto del merda Ok, con calma Allora, da qua sopra Aspetti, aspetti Ok, pronto? Allora, dopo che è andato via Via Ok Ce l'abbiamo fatta Oddio Con un HP Con un HP Non se può I traumi, traumi ovunque Traumi esistenziali Tagliamo Un attimino Un attimino Giusto un attimino Dacci un po' Oh, B- 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 Non è male Non lo so Ero traumatizzato Sei monetine da spendere E ci ha aperto un nuovo percorso Grazie al potere dell'amore e dell'amicizia E dell'odio che ho già per Caped Voglio entrare C'è l'amico qua Porcello Quello che ci sta provando con te da un po' Eh Cosa prendiamo? Ah, qua c'è una granata fumogena Quando noi schiviamo Siamo... Non possiamo prendere danno Potrebbe aiutarci Se facciamo cazzate Mentre schiviamo Allora Prendiamoci la bomba Il caffè Il caffè Ah No, automaticamente il nostro Cosa per attacchi super si riempie in continuazione Perfetto Oh, sì Lo prendiamo Ammesso che possiamo abilitarlo Io lo prenderei intanto Prendiamo? Ok, intanto prendiamolo Vai, vai, vai Cos'è? Ma non voglio guardare Sto tizio Sì, sì, sì Ma io volevo quella Se c'è un mercato nero degli organi anche Oh, sono al posto del cuore Non lo sapevo Potrebbe essere un problema Vabbè, dai Vediamo cosa abbiamo sbloccato Che ormai quelli ce li facciamo Oh, mio Dio Dove stiamo andando? C'è un'accetta lassù Cos'è? Cos'è? C'è una cosa con una città Signor pesce, salve Qua c'è un mausoleo Cosa potrebbe mai accadere? Ah, mausoleo Neanche farlo opposto Dobbiamo aiutare Lo spiro Il cadavere morto Lì, buongiorno Sparegli, sparegli, sparegli Beh, non gli faccio un danno Ah Sono rosa Adesso ho capito Allora, tu da una parte Io da quell'altra, ok? Ok Dovrei anche coprire la mia Perché io farò Di quelle cagate di dimensioni bibliche Aspetta Ok In due È fattibile Cosa potrebbe mai accadere? Se falliamo sto boss È da piangersi addosso Eh, ma fanno Guarda che faccia da piedi No, c'è la faccia Non c'ho voglia Di lavorare quest'oggi E sabato anche per me Guarda, quello lì La faccia da Oh, cos'è? Io non l'ho incazzato Non l'ho incazzatissimo Porco cane Sono vecchio e morto Più di così Scusa Guardalo Aspetta, guarda È più veloce degli altri? Sì Oh, questa era facile Sì Non abbiamo dovuto porco Nel più di tanto Cosa succede? Aiuto, paura Cos'è? Mia, mia, mia Prendi, la, prendi, la, prendi Oh, ciao Ok, grazie per avermi salvato Ci hanno dato un potere magico? Siamo power up Ok, non so cosa faccia Adesso lo scopriremo Mi dà 10-20 cuori Che bastano più o meno Sono tutti contenti Oddio Oh, crollato mi ha fatto danni Oddio Abbiamo sbloccato un nuovo super potere Una tazza Ah, un'attacca in più di super forse Aspetta Ah, è un nuovo raggio energetico Il nostro super diventa tipo un raggio energetico Siamo Goku Praticamente Sì Sì, sì Faremo schifo comunque Andiamo, uccidiamo le gente Torniamo dalle rane Eccolo, potrebbe mai accadere? No, 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 no Cioè, è lei che ha voluto fare la rana Secondo me c'erano altre cose più semplici in giro Ma c'è altra roba, no L'albero qua mi mette ansia Cioè, no, no, no Ne entro neanche C'era un palpeggiatore seriale Ormai abbiamo cominciato quello Lo dobbiamo finire Crack Allora, come al solito Vi saltiamo tutto E ci vediamo alla fine Ce la possiamo fare Ricordiamo che fanno Kero No, fanno Kero Fanno Pork, Pork, Pork No, quello sono io Ma non importa, eh Aspetta, vediamo un nuovo attacco Dopo, prima possibile Ok, siamo riusciti a non fare troppo schifo Siamo riusciti a far troppo schifo Aspetta Ok, ok Possiamo già buttargli cose Cos'è? Cosa fa? Oh mio Dio Non so cosa ho fatto Gli ho buttato il latte Gli ho buttato tutto il super Siete che il super era stracarico Aia Ok, probabilmente gli ho fatto un po' di danni Questo qua è fattibile Ok, stai giù Stai giù Su Giù 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 Su Aia Su Giù Mi vibra tutto Hai fatto anche tu un mega super Aspetta Mi si è baggato il joystick Ti sei baggato il joystick Ti sta vibrando di nuovo? Vibra Continua a sparargli No, la serpe no No, ok, aspetta Aspetta Basta farlo doppio Basta farlo doppio Basta farlo doppio ed è fatta Non ci sono problemi Vibra Youtuber professionisti Vibra Cos'è? No, il serpente è di nuovo Ok, dai, non ti preoccupare Tu hai il meno di due vita Io ne ho solo una Ma mi vibra il controllo Ah, ma mi vibra Ah No, mi fa prendere panico Ha smesso Ha smesso Ha smesso? Ok, ah, sono morto io Mi salvi Ok, ok, parli, 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 parli Au, au, au Aspetta Au, au, au Ok, ok, ok Ho sbagliato Aspetta, ok, l'ho attivata io L'ho attivata io L'ho attivata io Quanto ci mette a morire sto schifo No, basta Basta, ti credo Quanto ti piace la serp Assistente Ah, tantissimo Mi si sta intrippando il cervello No Mi salvi Addio Mi sono fatta, scusami No No Da quanto, dalla fi Non ci credo Piango tantissimo Ti odio Mi odio da solo Ce l'abbiamo fatta adesso Ok, ok, ragazzi Noi vi saltiamo direttamente alla fine Perché se no qua ci perdiamo l'intera giornata e vita Ok, ok, ok Oh, no, il toro Io sono negatissimo al toro Vado di mega attacco perché sono incazzato con la vita No, aspetta Su Aspetta Au Giù 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 Su Au Bacco cane Aspetta No, no, no Mi sono toccato No, no, no Monetina e merda Monetina e merda Beccacame, beccacame, bravo Ok, ok No, il panico Il panico ovunque Toro Di nuovo Toro Ok, 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 ok Giù Oh, no, non ci credo Non ci credo Non ci credo Oh mio dio No, vi giuro Siamo qua da una vita Siamo qua da una boia di vita No, vabbè, basta Non si può far sti giochi No, è carino, eh Ah, è carino, sì Trauma era incluso Yeeey Ti odio Cos'è? Vai al diavolo veramente L'ufficio del diavolo Ma porco cane Se mi vuoi dire che io ho fatto Il giro dell'ombra Aspetta E mi hai riportato Nello stesso identico punto Aspetta Passiamo qua di prima Ma io ti odio Ma no, no, no Mi rifiuto Vado a bermi una tazza di tè No di tè Nel senso di caffè Io devo fare questa cosa Inquietante che si muove No, no L'albero che ci esce Ci palpeggia Ok, ultimo Ultimo boss Perché io ho i traumi Non voglio più vedere Lo sto gioco, ok Quest'albero mi ispira fiducia Della serie Ma anche no Dove va? Va a farla pipì dietro l'angolo L'assistente Si può Ok, dai Ce la possiamo fare Cosa potrebbe Cos'è? Non so cosa sia Non lo voglio sapere Cos'è una goccia d'acqua? Uno slime nato male No Slime rancher Ah, cos'è? Che fa? Aspetta, aspetta No, no, no Aiuto Ok No, questo è stronzo Aiuto Non lo so Madonna santa Ho paura di mi toccasse malo malo Mi palpeggiano Sì, vabbè Aspetta, aspetta C'ho un'idea Che cattiva idea Ok, non so se mi ha pigliato Madonna No, no Troppo difficile sta roba Aspetta No Ci sono andati incontro Che fa? Che fa? Che fa? Wow Aspetta Grandissimo Ah, non so cosa ho fatto Non so cosa ho fatto Aspetta, lì Tiro il mega Uuuu Buongiorno Beh, quanto è grosso adesso? Sì, ma quanto è grosso Guarda 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 Non ci posso arrivare Eh, non ci potevo arrivare Ah Ok Non siamo andati Si trasformerà tre volte Ok, ok Guardi di mano Ah Non mi fido Fai detto che non mi fidavo Ok, 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 ok Ok, attento Buona, buona, buona No, attento Madonna Mi ha mancato di poker Oh Oh, in una volta tanto Non sto facendo Iper, super, mega Schifo Ecco, appena detto Porca di quella No, pepepepepe Mi di nuovo partita La vibrazione del controller Mi sta vibrando tantissimo Vibra malo Sì, ma non posso giocare Con il controller Che vibra in contino Hai capito che fa Cosi, cosi È orribile Non potete capire, ragazzi Che cavolo vuol dire Ah, ah, ah Aspetta Che stronzo Madonna, ma dai Aspetta Eccolo che fa di nuovo Vai Boing No Ma aiuto Assistente Aspetta Volevo fare Volei morire insieme a me No, volevo fare la feed Raggine Salvarti Oh, mentre prendevi i cosi Si senti sburoni Che bello aver iniziato Sto gioco Assistente Guardi La prossima volta Vado a prendermi a cinghiate Sui testicoli No, ho fatto una Attento Si levi Uh, cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Io sono Un mago Porca No Porca boia Sono un mago È comodo il tuo potere Aspetta Eccolo, eccolo, eccolo Però tu ti inizi la vita Fidati Porca boia Tenditi tutti In i super Aspetta, aspetta Uh, l'ho preso comunque Ok Attento Aspetta No Ah, mi abbasso Mi cacco Tento, attento, attento Stavo guardando altro Oh, ma ogni tanto Si prende anche le pause Non È veramente fatto in maniera Bastarda Ok Allora, cerchiamo di stare vicini Uniti e Au, volevamo stare bene Basta Ok Hai tanti età Che tu Ah Aspetta Ho sbagliato Si muore sempre assieme Io e lei Guardi, guardi Eravamo quasi arrivati all'ultimo Buono, non stiamo andando male Non stiamo andando così male Eh, ti Pigliate la mia onda No Non l'ho sprecata Un po' l'ho preso Ah Aspetta Io dove stavo sparando Lo so Io dove stavo sparando Ok E io ho sbagliato Che tanto per scrivere Cos'è, cos'è Piggialo, pigialo Pigialo, pigialo tutto Pigialo tutto Pigialo tutto È morto? Non credo Che fa? Che fa? No, non mi fido Non mi fido Attento, attento Attento Ok Aspetta, ma come li Non lo stiamo pigliando Dobbiamo pigliare Ho fatto con l'attacco verso l'alto Sì, mi sono sì Attento Ok Non ci credo mai nella vita Due imbecilli E di nuovo che è ripartito il mio controller A vibrare in maniera No, vi giuro Non so se sentirai registrazione Questo è quello che io devo subire in continuo Gesù, quanto vibra sto boia di controller Anche io quando ho cominciato a registrare sto video È stata veramente una boiata Signore, mi ci muore quando ha un secondo Sono morto No Aspetta, aspetta, aspetta Io gli scrivo tutto il mio potere Mi ha tirato un carignotone Non ha tradito Vibra il controller Adesso il tuo vibra? Sì Perché sono morto Aspetta, muoio, io muoio, io morto Io morto, io morto Arrivo No, dove sei? Aiutami, no Non ce la faremo mai Ha smesso di vibrare Ha smesso di vibrare almeno Aspetta, dai Buono, non ci dobbiamo far fregare Non ci dobbiamo far fregare Aspetta, cominciamo a sparare verso l'alto Ok, ok, ok Non so se posso lanciargli gli attacchi faigli Quello è il problema Madonna, da un po' durare ancora tanto Madonna, madonna, madonna Oh, anche oltre la morte sto coso rompe le palle Mi sono caccato tantissimo Mi sono caccato tantissimo Ti hai pigliato? Ah no, ok Per un secondo avevo il dubbio L'ultimisto sparire Dimentico sempre che c'è l'abilità della È andata fumogena Dai, dai che è fatta Dai che è fatta È la volta buona So che io non dovrei gufarmela Vabbè, qua ci muoio male io C'ho paura Adesso, sono venuto in panico Uh, cosa? Uh, cosa? Ma veramente Ma si ve Oh Stavo perso Mamma mia Cioè io con un HP No, sto gioco ho troppa ansia Basta Basta Mai più Ok Bah, no, no, no C'ho bisogno della droga Della, della Della clessidra Cosa? Felici di cosa? Cosa ho sbloccato? Dove siamo? Dove andiamo? Dobbiamo volare Non so cos'è Abbiamo ottenuto Il progetto per un aeroplano No No Mi prendi per il chiurlo? Così si spara? Con triangolo invece ci rimpiccioliamo e siamo più veloci? Ok, cosa pratica? Ah, non è male Non è male E con cerchio ci sono le varie abilità tipo bombe, via dicendo Cioè abbiamo capito una ciolla andrà sicuramente bene Io esco che a me li sono traumatizzato L'aeroplano no Non l'avevo considerato Non l'avevo considerato Ok, no, no, ok No, no, dove va? Dove va? No, assistente Sta ciolla Sta ciolla No, non guardiamo neanche No, noi non guardiamo No, facciamo l'auto Là c'è il secondo mondo Dai, dai Ok, diamo solo un'occhiata veloce Ma si esce Una vita Una vita La prima volta che si muore basta e si fa là Già mi son pentito Già mi son pentito Cos'è sta roba? Aspetta che c'è anche gli aerei che ci sparano cose Signorina Non la vedo bene Cosa fa? Ci spara le ha? Ah Via No, 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 no Cosa le costellazioni perfino I tori Cosa sta accadendo? Cioè Ti ha progettato sto gioco Era fatto malo malo di droghe Ma malo malo Attenuto che ca... Ricca Dobbiamo tipo rimpicciolizzo e andarsu giù? Sì, probabilmente Mi sa di sì Ma dai Non siamo ancora morti Che cosa può... Cos'hai fatto? Guidalo bene No Sei esploso malissimo Aspetta Fatto di droghe brutte Cos'è? Cos'è? Eh, non lo so Ma sono morto Mi hai riportato in vita, davvero? Thank you Thank you a lei No, veramente Attenuto che questa qua spara malo Non è messa bene Vai, vento Prendi lui Papara, papara, papapà Il solito tipo braccio di ferro all'improvviso Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No, no Mi hai abbandonato No Ti perseguiterò dall'oltretomba Ah, 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 ah Ah, ah, ah Non so neanche quanto possiamo aver fatto, eh Guardalo, guardalo, guardalo Sì, 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 toccato Cacchio, cacchio Boom, boom No Cosa? Cosa hai fatto? C'hai dato la prima trasformazione intanto Cos'è? 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 No, signora Ho voluto provare il livello Ma ti diverti No Cos'è? Ti diverti, ti diverti Quello, bellissimo livello No, 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 no Che diavolo abbiamo Mi dimmi Guarda dove siamo arrivati, peraltro Zitti, zitti, cacchi, cacchi Ok, un'ultima volta Mi piace sto livello Ti piace sto livello? Ci sono le genti drogate malo Ok, dai Mi dici con un altro Dai Non so nemmeno io come ho fatto a fare quello che ho fatto fino adesso A schivare gli attacchi, soprattutto Aia Mi ho appena detto Tento attento che ritorna da sotto noi torello il torello no torello no torello buono vaffanculo torello c'è una bella cosa io cerco di stare basso perché se muoro le doppi tempo per il mio salvare aia 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 grande butta di culo mi stia basso mi stia basso assistente perché sennò fra un'ora non riuscirò mai a salvarlo in tempo così scusi e devo lanciare mi ha distrutto stronzo il missile ok ok mi stia basso le ho detto assistente ok ce l'ho fatta attento attento i cosi attento i cosi aiuto mi è deceduto l'aereo non riesco a prenderti con la x con cosa premeva col tasto sbagliato perché sono su un controllo sbagliato ok facciamo finta di niente in realtà è che volevo fare tutto da soli ah ecco morire da soli per giusto madonna madonna non dovrebbe mancare aia tanto alla trasformazione e se e le trombe d'aria tromba tua nonna a a a mi cacco mi cacco aspetta 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 gli lancio un missile così vediamo se vai 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 ok ok però no forse durante la trasformazione non conta niente quant'è bella signorina guardi una donina da sposare non sappiamo neanche cosa faccia lo sa vero ho le stelline no amato cos'è fai un missile sulle gengiri no no stia bassa assistente si possiamo toccare che da basso aia aia porca di quella iper porca di via una placata aspetta aspetta merda merda sono morto sono morto sono morto non ci credo no dai mancava pochissimo ok 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 ci siamo porco cane stavo andando bene fino a adesso uso la bomba vai no merda c'è la stella no che stronza mi ha preso mi dispiace mi dispiace porco cane lo tenevo da parte madonna degli alieni di sta ciolla aspetta 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 ok sono tornato più pirla che mai arrivo 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 salvatto 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 porti pazienza io mi tengo bassissimo non c'ho cacchissimo vai vai di missile vai di missile sono morto sono morto sono morto ok 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 dai che non può no morto ok salva terrimo stia basso stia basso sì 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 grandissimo no vabbè basta no basta assistente mi incazzo sono due ore che siamo qui ok e questo era l'unico episodio di capped perché c'ho i traumi non lo so valuteremo eventualmente quando rivedrò la nostra assistente il da berg ma va via il culo va spero che vi siete divertiti noi ci siamo traumatizzati un bel po' è un gioco molto più complicato del previsto come avete potuto vedere immagino non entri nei livelli avete visto anche da altri youtuber ma si prendono le monetine no e qua un altro giorno prenderemo le monetine ma io direi che per questo primo traumaticissimo episodio di capped è tutto quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie candidati del canale crescere e noi ci andiamo a fare di di troche malo malo perché un caffè un caffè un caffè un caffè un caffè me lo faccio anch'io ciao ciao è una moca ma metti su te stesso è una moca è vero tan zan zan no no il caffè ciao ciao